Con questa pandemia in corso, la presenza stessa delle sorelle Tyburn in Francia è in discussione. Siccome non possono ricevere pellegrini nei loro conventi, le loro finanze sono in uno stato di disperato bisogno. Tuttavia voi potete aiutarle così loro potranno continuare ad aiutarvi, ad aiutare la vostra famiglia, i vostri amici o vicini che sono in difficoltà o in stato di bisogno perché stanno subendo le avversità della vita. Se 10.000 persone donano anche solo 10 euro a testa, le sorelle Tyburn riceveranno 100.000 euro, la somma necessaria per fare il pagamento dovuto in febbraio, dando la possibilità alle sorelle di stare nei locali attuali, ossia nel convento vicino alla casa della loro madre fondatrice e continuare la loro vocazione e missione in Francia. Voi probabilmente non siete nemmeno a conoscenza del loro convento, ma una piccola oasi di pace e di preghiera a Saint-Louis-sur-Jean in Francia esiste. Qui c'è una piccola ma potente comunità di monache benedettine di clausura contemplativa, totalmente devote alla preghiera per il Santo Padre e per i bisogni della gente, qualsiasi essi siano. Le sorelle pregano anche durante il lavoro, per ogni buona causa, prima ancora che volo chiediate, instancabilmente ed in modo affidabile, tutti i giorni e per tutto il giorno. Attraverso e durante il loro lungo e devoto servizio, le sorelle Tyburn imparano a convertire il lavoro in preghiera. Loro acquisiscono una sorprendente abilità nel trovare nostro Signore nei compiti ordinari della vita di tutti i giorni, in modo da cancellare la distinzione tra il lavoro, la preghiera e la contemplazione. Loro sono come quei pilastri invisibili sotto l'acqua di Venezia, che sostengono silenziosamente il pesante carico delle meraviglie architettoniche sopra, come quei pali linei da cui dipende la bellezza e la vita quotidiana della città. Anche il passero trova la casa e la rondi nel nido, dice il salmista. Il convento di Saint-Lou è quella preziosa casa dolce casa delle suore, dove loro pregano, lavorano nell'orto e cercano di sbarcare il lunario in questi tempi difficili. Guardate all'interno del convento, guardate di persona cosa potrebbero perdere le suore se non fossero in grado di pagare questa quota. In sostanza loro potrebbero perdere la casa dove hanno investito così tanto. Per favore aiutate le sorelle Tyburn in ogni modo possibile. I dettagli per effettuare un pagamento sono nel sito www.tyburnconvent.org.uk andando su donation e poi su a call for help. Grazie mille.